Ultimo tramonto a Kampong, in direzione di nuovo Phnom Penh e poi domani Bangkok. Sì, 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 sì. Siamo in treno da tre ore e mezza e non siamo ancora arrivati, sono stanco morto, sono le nove e mezza di sera e siamo ancora in treno, dovrebbe arrivare le dieci e mezza ma secondo me arriva in ritardo, vediamo. La colazione dei campioni, l'ultima mattinata qui a Phnom Penh prima di riprendere il volo per Bangkok. Le posate, le chopstick, stanno qui dentro dove c'è dell'acqua calda. Voi tirate fuori, poi con il tovagliolino li asciugate e li pulite un po' bene e potete mangiarci tranquillamente. È un mese che non mangio cioccolata e adesso me ne sono preso un pezzettino. Mh, buono. Su Tuk Tuk, direzione aeroporto. Dalla città di Phnom Penh all'aeroporto dovete tenere conto di almeno un'ora perché potreste trovarvi congestionati nel traffico. L'aeroporto di Phnom Penh. Bangkok, indice 45. Sembra una specie di paddai. Questo paddai è uno spettacolo, buonissimo. E c'è mancata Thailandia. La taglia torta è buonissima. Un ottimo pranzo, veramente buono, lo sono potuto. La Bangkok Airways è una delle migliori. Fornisce sempre il pasto a bordo. E questo pasto devo dire che era veramente eccezionale. Era un paddai e una torta. Ottimi. Appena afferrato a Bangkok. Adesso di nuovo l'immigrazione, la richiesta del visto turistico che vale 30 giorni e poi si va a prendere bagagli su un nastro trasportatore. I banchi dell'ufficio immigrazione. Adesso aspetto il mio zaino e poi vado a fare la scheda SIM nuova per la Thailandia. Perché quella cambogiana chiaramente qui non funziona. Iscriviti al canale.